Messer Boccaccio, Baro venna dalla figlia della Ligieri, con il compito di chiederle perdono da parte dei fiorentini. Cavalcando l'altrier per un cammino, pensoso dell'andare che mi sgradì, trovai amore in mezzo della via. Cos'è? Una poesia bellissima, di un prescelto. Vi saluto. Vi saluto. Tanto gentile, tanto onesta a fare. La donna mia, qual è l'altro il saluto? Ogni lingua deve entremando muta. E gli occhi non l'artiscono di guardare. Un belloso sguardo, c'è l'emozione del mondo. Scrivete un libro solo di morti? Solo di morti. Ha scritto che la vigna che sua santità distrugge è la Chiesa, la nostra santissima Chiesa. Ha cercato Dio e Dio è là, alla fine di tutti i disegni. Allora, la nostra santissima Chiesa è la mia conoscenza.